Questo convegno, perché è un convegno scientifico, noi quello che possiamo dire sono le nostre esperienze personali che rappresentano il nostro vissuto, però in effetti noi non abbiamo le cognizioni tecniche per capire che stiamo affrontando, a mio parere, una delle più grandi sfide dell'umanità, cioè la salvaguardia del pianeta, quando, io non so se qualcuno di voi vede la serie Il trono di spade, in cui hanno deciso di non farsi più la guerra tra di loro i sette regni per affrontare il regno dei morti, è un po' così, nel senso che noi in questo momento abbiamo due grandi sfide davanti, che sono il suo riscaldamento climatico, la salvaguardia delle acque. Queste sono le nuove generazioni che dovranno per forza affrontare questo problema per cercare di porvi di meglio. È giusto in questo momento iniziare un'opera di informazione scientifica, di sensibilizzazione al problema, perché quello che possiamo fare noi è molto, è tanto, soprattutto voi che rappresentate il futuro della nostra collettività. Quindi è con questo spirito e questa ottica che abbiamo voluto organizzare, metterci quanto in più energie possibile e grazie all'abilità di Maria Rosaria abbiamo la possibilità di avere, diciamo così, coloro che meglio di chiunque altro possono testimoniare e rappresentare ciò che oggi rappresenta la risorsa acque. Quando parliamo di risorsa acque, non voglio dilungarmi e devo essere breve, però la mia esperienza personale mi porta a guardare istintivamente quello che è il nostro mare, che noi definiamo Golfo di Napoli, che però se ci fate caso geograficamente è quasi un lago, perché è chiuso da Ischia e Procica, da un lato e dalla terraferma per il resto, quindi alla fine è quasi un lago. Ora, noi rispetto a questo mare che una volta era considerato un confine, oggi è una risorsa, abbiamo delle responsabilità, dobbiamo trattarlo come un bambino, dobbiamo cercare di recuperare i danni che sono stati fatti nel passato. Questo è un po' il nostro appuntamento. Io mi ricordo, giusto per raccontare un aneddoto, circa 25 anni fa, in un programma elettorale, uno dei tanti che ho fatto, scrissi che uno degli obiettivi della nostra politica era il disinguinamento del salmo. Mi presero come scemo, cioè mi dicevano ma che resta cose, che cosa hai messo in piedi? In realtà non è che noi potevamo disinguinare il salmo, però la mia era una sollecitazione a istituire un tavolo tecnico che si occupasse di questa tematica, proprio perché rappresenta uno degli elementi negativi rispetto al quale il nostro mare ha sofferto e soffre ancora. La stupenda organizzatrice Maria Rosaria Cennino, abbiamo Gianluca Genoni, non ve lo devo presentare, ieri sera come siamo entrati qua dentro? C'era un ragazzo che ha la Gianluca Genoni, vuol dire non è vero, non è vero, però quindi evidentemente anche rispetto al sottoscritto c'è una conoscenza tra i giovani perché rappresenta un elemento di conoscenza, di sperimentazione e anche di narrazione che è troppo importante per non conoscenza. Poi c'è il professore Uricchio, il professore Uricchio è uno di quei cervelloni che si occupa di risorsa acqua nell'ambito del CNR, è dirigente quindi del settore risorsa acqua del centro nazionale delle ricerche, quindi è il supporto scientifico che rappresenta un po' la tematica che qui vogliamo configurare. Poi c'è un grande fotografo, Gaetano Vassallo, che diciamo così, Pasquale chiedo scusa, che in effetti racconterà la sua esperienza e quella di altri fotografi dei quali ha raccolto le testimonianze. Lo ringraziamo di essere venuto, ha trovato un traffico bestiale però comunque è arrivato. Poi da ultimi ma non ultimi c'è Luigi Fibrisco che rappresenta la nostra istituzione e anche l'attenzione del comune di Sorrega, quella che è la tematica ambientale, perché lì ho un po' il punto di congiunzione fra la politica e quello che si muove sul territorio sul tema e poi c'è l'associazione Marevico con la quale ormai abbiamo un rapporto quasi sinergico e rispetto alla quale c'è questo interscambio tecnico-scientifico che ci sta dando la possibilità di approfondire gli argomenti, di intervenire sul territorio, di cercare di creare quelle sinergie che poi sono fondamentali rispetto alle tematiche. Quanto più le tematiche sono impegnative, quanto più la capacità di mettere insieme i pezzi diventa importante. Io... Grazie a tutti.